Sindaco e Giuntasi aumentano le indennità mentre il Comune riduceva debiti per milioni di euro. Aumentate le indennità di amministrazione e consiglio nonostante la cattiva gestione di alcune vicende economiche comunali, la scelta di chi governa la città non è sfuggita al Movimento Civico 4 che ha preso in esame le indennità del 2019 e le ha paragonate a quelle di quest'anno. Nel 2019 il costo totale per primo cittadino, giunta e consiglio comunale era di 738.770. Quest'anno con una delibera nuova il Sindaco Francesco Italia e la sua giunta hanno scelto di applicare il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 13 del 25 maggio 2022. Esercitando questa facoltà il Sindaco e Giunta, spiega il leader del Movimento Michele Mangiafico, hanno deciso di parametrare l'indennità del primo cittadino nell'80% del Presidente della regione siciliana aumentando a Italia e a cascata ai componenti della sua giunta tutte le indennità. Il Sindaco prende adesso 9.173 euro che dal 2024 diventano 11.040, il Vice Sindaco prende 6.879 euro che dal 2024 diventano 8.280, l'assessore prende adesso 5.503 euro che dal 2024 diventeranno 7.176 euro. Complessivamente nel bilancio del 2024 solo per Sindaco e Giunta Municipale i cittadini dovranno mettere in bilancio 920.736 euro, cifra nettamente superiore rispetto al 2019. Ma non finisce qui, c'è poi l'articolo 38 della legge regionale 9 del 27 luglio 2023 che riguarda i consiglieri comunali. Grazie a questa legge, nella seduta dello scorso 23 ottobre, 23 consiglieri comunali su 32, escusi Gennuso, Greco, Messina, Rabito, Ortisi, Milazzo e Zappulla, hanno votato una variazione al bilancio del 2023 per accendere un capitolo di bilancio che accolga gli aumenti e hanno indirizzato il dirigente a predisporre gli atti per portare il gettone di presenza al tetto massimo del 25% dell'indennità del Sindaco. Dal 2024 complessivamente per il solo gettone di presenza dei 32 consiglieri comunali bisognerà prevedere in bilancio 1.059.840 euro. In totale tra Sindaco, Assessore e Consiglieri il bilancio del 2024 dovrà prevedere 1.980.576 euro, oltre al rimborso ai datori di lavoro che potrebbe aggirarsi intorno ai 150.000 euro, un maggiore sborso rispetto al 2019 di oltre 1.300.000 euro l'anno. Al netto di questo Mangiafico punta il dito contro l'amministrazione anche per un'altra questione, cioè quella di IGM, per cui non è riuscita ancora a pagare l'ultimo debito della sentenza di 7.791.896 euro, oltre interessi maturati in questi due mesi in circa 53.000 euro, rintracciando in bilancio solo 5.500.000 euro, anche perché ha impegnato altre somme, come abbiamo visto, per aumentare indennità e gettoni di presenza. Il Comune di Siracusa ha certificato nel 2015 un disavanzo da ripianare che al 21 dicembre 2022 risulta ancora di 13.880.985 euro e per il quale scrive ogni anno in bilancio la cifra di 683.782 euro per ridurlo. Il risultato dell'amministrazione nel 2022 è stato di meno 4.082.000 euro. Per quanto riguarda l'indebitamento, il debito complessivo contratto dall'amministrazione comunale di Siracusa alla data del 31 dicembre 2022 è pari a 37.997.527 euro, escludendo il debito IGM e altri che siano maturati nel 2023. Tra disavanzo, indebitamento del 2022 e nuovi debiti del 2023 il Comune è esposto per oltre 60 milioni di euro. L'amministrazione comunale è al Consiglio comunale e chiede Civico 4 che nel frattempo 1.300.000 euro l'anno di maggiore sborso per i cittadini per indennità e gettoni di presenza siano destinati a un capitolo vincolato per il pagamento dei debiti e la riduzione del disavanzo dell'ente.